Ehi la ragazzi, ciao a tutti da Nick e bentornati qua su Eurotrack Simulator 2 Ragazzi, oggi facciamo un lavoretto dipendente Perché? Perché vorrei andare in una parte della Polonia che non ho ancora esplorato Praticamente partiamo da Wroclaw E andiamo a... lo so che non lo so dire per niente, comunque Katowais Perfetto, se c'è qualche polacco sta a ridere come un pazzo Sicuramente Però, comunque sia ragazzi, oggi facciamo questo viaggetto Così continuiamo un po' ad esplorare l'intera mappa di Eurotrack Quindi, accetto il lavoro e partiamo con uno Scania, credo Stiamo trasportando ragazzi Mangime Quindi, che so, per polli, no? Magari per polli o qualcosa di simile Allora, accendiamo il motore Bello, c'è pure lo schermo lì al centro Pressure I fari Accesi Il navigatore non ce l'ha incorporato Accidenti Eh no, io mi perdo senza navigatore, non vado da nessuna parte Ragazzi Allora, visuale esterna Bene Allora, andiamo Bello Stoscania Quanto meno, ragazzi, non c'ho un camion troppo scarso Quanto meno Stiamo trasportando due container di Mangime Allora, aspetta che Oddio, l'avevo tolto per sbaglio Ok, mo, tutti mo Fatemi uscire, dai, che me ne frega Aspetta questo, mo, eh Non è che io devo rimanere qua tutta la giornata, non ho capito Eh, scusi C'ho il cliente che aspetta Il datore di lavoro mi ha detto Nick, datti da fare che se no non te pago Quindi sbrigati Ed è quello che farò Mazza come frena comunque, ah Frena veramente parecchio Frena veramente tanto sto camion Sono le 5 di mattina E non devo dormire Non ho quel tipo di necessità abilitata nel gioco al momento E che se abilito questa cosa Poi va a finire che per un qualche strano motivo arrivo sempre in ritardo Tipo per i semafori Tipo perché devo dormire Agro Nord Mazza Mi sembra quasi una ditta italiana O magari Pare, mi ricorda qualcosa di simile Comunque sia Comunque sia, raga Come va? Come va? Tutto bene? Le vacanze? Ormai raga Agosto è quasi arrivato C'è un caldo pazzesco Nella mia stanza ci stanno Ciao poliziotto Nella mia stanza raga Ci stanno 32 gradi Ma ho acceso il climatizzatore Perché se no la maglietta mi si scioglieva addosso Quindi ho dovuto Accendere il climatizzatore per forza di cose Mo' dicono che arriverà caldo ancora più forte E poi alle volte dicono che arriverà il fresco Non se ne capisce più Non lo so Una giornata dicono una cosa Un'altra giornata la dicono in un modo diverso Oh, sono passato col giallo Non fatemi la multa Grazie Collega Da posto? Bene Comunque raga Continua anche il mio allenamento È da quasi un mezzo Da 20 giorni che sto a dieta Ho perso Sto a perdere raga La bellezza di Un chilo a settimana Ancora il traguardo è un po' lontano Però Ce la metto tutta raga Ce la metto tutta Ci arriverò Al peso forma Piano piano ci arrivo Meno male Dall'inizio In 20 giorni ho perso tipo 3 kg Più o meno 3, 3,5 kg Qua costo limite Ah, limite a 70 Meno male C'era quel limite a 50 Che non mi faceva camminare più Ok Bene Oh cacchio Meno male Meno male che ho frenato Io stavo per buttarmi dritto dritto qua Bello raga Guardate l'alba Sono le 5 e un quarto di mattina Guardate quanto è bella Poi c'è quel palazzo lì Che copre un po' Il sole Bellissimo effetto di luce Comunque raga Ve la siete goduta La luna rossa Cos'era due giorni fa Tipo due o tre giorni fa Io l'ho vista raga A malapena L'ho beccata quando era già parecchio scura Ho provato anche a fargli una foto Ma la mia reflex Che c'ha l'obiettivo Quello da vicino Ovviamente Non poteva fare niente Però ci ho provato Ma Non è stata foto Che ho potuto fare Insomma Non mi è riuscito Ci sta l'auto Velox qua Ho visto il cartello Devo stare a te Eccolo qua Manomale che Non mi ha fatto niente Hanno spento le luci Alle 5 e 30 di mattina Ma non c'è quello Deve essere qua Forse no Ah Mi sa che qui Non hanno il telepasso Come si chiama lì Insomma Non hanno il telepasso O come lo chiameranno Da queste parti Vabbè Vabbè Cambia poco Più il biglietto Vabbè Lo stesso Allora Dovevo teoricamente Mettermi tutto a destra Come l'altro camion Però non mi andava Di fare la coda Quindi Oh ma questo Non cammina Andiamo Quanto sono lenti Certe volte Questi Mo' tempo che Pia velocità Sto camion Mi fa fatica Il caldo Maledetto caldo Maledetto caldo Incasso 9.221 euro Da autista William Ma quanti autisti C'ho effettivamente Ma io quanti autisti Perché comunque Questo salvataggio L'ho recuperato Perché poi c'è stato Un problema Teoricamente Ho giocato molto di più Questo salvataggio È un po' Andato così Così Un po' A male Però almeno C'ho i soldi Originali Perché Qualche tempo fa All'inizio Nel multiplayer Ti regalavano Tipo i milioni Di milioni Dei milioni Quasi quasi Mi fermo Un attimo In questa azione Di servizio Voglio dare Un'occhiata A quanti camionisti C'ho Teoricamente Ne ho un bel po' E così quasi Perché non investiamo In un nuovo camion Ragà Magari investiamo In un nuovo camion Spendiamo un po' Sti soldi Ma pure qua C'è il limite Di velocità Che rompe le scatole Ma parcheggio Un attimo qua Che voglio dare Un'occhiata Alla situazione Finanziaria Ok Mi fermo qua Spengo il motore Allora Vorrei dare un'occhiata Alla Gestione aziendale Garage Quanti ne ho? Un bel po' Produttività Dion Zero E perché? Manca l'autista C'è un camion Senza autista Allora Gestione autisti No Agenzia del lavoro Tanto è lo stesso Assumi autista Dove vado vado Penso che è lo stesso 5,8 Pare che è quello Più buono Ma quanto mi costa? 445 A trasporto E vabbè Io le voglio Voglio uno buono Assumi autista Ma dov'è Dio Cosa è? Qua è? Ci ho azzeccato E beh raga Almeno Ma ho un camion In un Ma non è che quello Era il camion mio? Quello che ho lasciato Un attimo Perché Non lo so Forse è il camion Che non stavo usando io Perché sto usando Un camion Di un'altra persona Attualmente E chi lo sa? Milano Torino Tutti quanti hanno Tutti c'hanno il camion Tutti c'hanno l'autista Oh quasi quasi Pio un altro camion Comunque raga Rivenditori Pigliamo Un Mercedes Benz Acquisto Online Bo Stream Space Ricordo che era buono Personalizza Configurazione Vabbè Un camion Semplice A me non me ne frega niente Di farlo troppo Personalizzato 6x2 Carichi Pesanti Terreni Sconnessi Oh bello Ok E' rimasto salvato Sì Motore Eh mettiamo un motore Un po' più potente Questo Che caspita Mi cambia Qua Bello questo Dà un mucchio Di vantaggi Forse Ok Vabbè Dai Una cosa semplice Conferma Non è che posso spendere Un mucchio di soldi Già ne ho pochi Acquista Allora Dov'è che lo mandiamo Lo mandiamo Dove Non ho Ecco Qui c'è spazio Ne compriamo un altro Ne compriamo un altro E perché no Bene Due camion Quindi ho bisogno Di due nuovi autisti Allora 6x7 Dov'è che l'ho messo Qua E poi E poi Gestione autisti Agenzia del lavoro Assumi autista Eh no Solo questo C'è 5 Va bene A posto Bene raga Ho aumentato Di non poco Insomma Mo abbiamo 3 camion Al lavoro Andiamo Quindi I profitti Nel tempo Aumenteranno E teoricamente Ho anche Credo che io Il garage A messina Completamente Vuoto Quindi in futuro Potrei prendere Altri camion Magari Non ho Non ho Comprato I camion Migliori Cioè Non ci ho speso Molto E non ci ho preso Un mucchio di tempo A personalizzarli Ma Basta che portano Soldi Ma Non è che poi Ma chi li rivede Più sti camion Oh Bellezio Non è che posso Stare tutta la giornata Qua dietro a te Dai Questo non cammina Raga Siamo Consumati Eccolo Io me butto Già Guarda Che non c'ho voglia Di starti dietro Ok Io te sorpasso Guarda Sei troppo lento Mi stai già Antipatico Oh no Ho superato Ho superato Sì Ok Ale Beh dai Comunque Era da tanto Che non aumentavo I camion Nella mia Azienda Nella mia azienda Quindi Quindi ci stava Speriamo che però Il camion che uso Di solito Io non glielo L'ho dato a qualcun altro Ho questo piccolo Dubbio Ma bene Nel caso Me ne compro Un altro Tanto I soldi Ce li ho Per comprare Un altro Camion Quindi Qual è il problema Mi posso anche fare Il prestito Volendo Teoricamente Posso Non penso Che ho prestiti Attivi Al momento Non credo Non lo so Boh Beh ma a quest'ora Vedevo che pagavo Le rate Non le ho mai viste Quindi Penso che non ho Debiti Comunque si Il limite È di 80 E quindi Cerchiamo di rispettare I limiti Perché se no Mi fanno la multa Beh eccolo lì Guarda È passata proprio Ora la macchina Della polizia Ho attivato Il cruise control Quindi Speriamo Che sto tizio Davanti a me Non rallenta Speriamo E difatti Da questa parte Non ci sono mai passato Certo Questa è tutta Strada Nuova Basta guardare Nella minimappa E notiamo Che Da grigio Diventa giallo Perché ci sto passando Per la prima volta Compa Cammina Mi hai superato Prima Ti sei messo Davanti a me E mo vai piano Questo mi ha superato Prima raga E mo sei messo Davanti a me A rallentarmi E io mo Boom Lo supero Sì Sì rischio La multa Però Ho paura Che questo Prima o poi Butta una frenata Bene Rallentiamo Ho attivato Ho attivato il cruise control No Non ancora Ah Lavoro in corso Qua di solito Ci mettono A macchinetta Che fa Le multe Dove ci stanno I lavori in corso Di solito Ci mettono L'autovelox Tutto a posto Niente multa Meglio così Capita spesso Magari nella realtà Nel gioco Non lo so Però nella realtà Lo fanno Quindi E' bene Non farsi fregare Se non si vuole pagare Ok Incasso 11.000 Passa da Alice Alice Dal paese delle meraviglie Mi ha fatto incassare 11.000 euro Grazie Alice Anche lì Facciamo consegne Anche nel paese delle meraviglie Noi facciamo consegne Sempre Ovunque Ovunque serva Consegnare qualcosa Noi andiamo Ok Monique Vabbè io non pago Paga il datore di lavoro Non sono soldi miei Pagati dal datore di lavoro A posto Io non pago niente Non pago carburante Non pago una cippa Qua paga tutto il datore di lavoro Io devo solo guidare Io sono pagato per guidare Ma che c***o Ma dai questo limite dei 40 Sì ma però a me Ste multe da 1100 euro Ma hanno rotto E scatole Ma sono multe salatissime C'era il limite dei 40 Nel casello Una roba tipo di 50 Cacchio sto andando Scusate la parola Ma sto poliziotto Ma lo metto sotto Tra poco Mazza mi da fastidio Perché E sto attento agli autovelox E sto attento qua Sto attento là Ti distrai in attimo PAM Multa Non si scappa Poi c'hanno una mira Sembra a me beccano Questi qua Sti poliziotti Anche contromano Mi beccano Io dico ma te contromano Come c***o fai A leggermi la targa C'è contromano Incrocio la macchina Della polizia Contromano Contromano Incrocio la macchina Della polizia E questo mi legge Targa Velocità Mi guarda in faccia E mi fa la multa Non è mica normale Perché non io La mando un attore Di lavoro La multa Ma la devo fare a me Eh l'audista Sei tu Pagato per guidare Ai 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 Mannaggia Non ci voglio pensare Va Devo dare precedenza Non me ne frega niente Andiamo Mo c'è il limite Di 70 All'improvviso Compare per un attimo Un 40 Ti fanno la multa Cacchio è sto coso qua Lavori in corso Cato Wise O come caspita Si chiama Esplorato A posto Coto No cato Ok Semaforo più avanti Ovviamente Nick Becca il giallo E poi il rosso Cammina Cumpà Cammina Bene Permesso Che l'ho Pgliato un po' Larga Ok Beh Almeno siamo quasi Arrivati Peccato per quei 1100 euro Di multa Peccato proprio Poi il limite Di 40 Almeno era di 50 Come qua No 40 Bello del zio Io passo Allora ci siamo Un ultimo semaforo Ovviamente lo becco Subito verde Così diventa subito Rosso Ce la facciamo Beh Siamo arrivati Quanto meno Ed era un viaggio Corto Penso se era un viaggio Lungo Mi beccavo 5 multe Ok Eh Un po' Male Ok Piano piano Che chi ha fretta Sbaglia Eccola là Visto Così Ok Perché sto andando Storto Mo Vabbè Me lo piglia bene Lo stesso Ok Fatto Sgancio Sgancio Ale Bene Mi conteggia anche la multa qua No La multa Cosa Tutto sto viaggio per 3200 euro Di cui 1100 di multa Caspita Ho viaggiato per 2100 euro Raga Proprio Era corto Però Caspita Vabbò Amen Almeno abbiamo esplorato una parte per me nuova della Polonia Quindi ragazzi Concludo qui questo gameplay Come sempre Mi raccomando Commentate Iscrivetevi Lasciate un bel pollicione in su Ci becchiamo presto ragazzi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie.